19.45, siamo a Certaldo, meglio, siamo nella frazione di Dall'Erme, il comune di San Gimignano, fiume Ezza, località La Soltaia, è arrivata la pioggia e puntualmente è tornata la fiuma lungo il fiume Ezza. Possiamo vedere infatti che si sta formando, si sta avanzando lungo questa parte, che fa un po' concentrato a ridotto della terra la formazione della fiuma di questi fenomeni che da anni stanno impreversando nei fiumi della Valdezza. Nel spiegare infatti tutta questa attrazione che viene dal punto di San Galgano, ossia tra Certaldo, Euremiano sta interessando anche il colpo del fiume e non sappiamo quali possono essere le eventuali conseguenze che gli stessi incontriamenti però ci rassicurano. Stanno procedendo ormai da mesi, forse anche da anni, le indagini attorno al fiume, però ancora l'origine dei terzi attivi, l'origine di questi fenomeni e l'eventuale o meno che la pericolosità che comunque viene esclusa dagli ordini di competenza non è ancora chiaro. Dopo nei giorni scorsi è stata specializzata l'avvio di un'importante campagna di indagini anche con la collaborazione di ARPAC, comuni e associazioni del territorio. Tardano il compito, anche grazie a delle segnalazioni, di presentarsi sul fiume in caso di segnalazioni anche da parte dei cittadini, poter prelevare un campione di acqua dove è presente la sfuma e avrete in posizione delle strutture che potranno poi consentire ad ARPAC, capoprilla in queste indagini, di poter intagare sull'origine e la presenza di queste sfume che davi il presano e il fiume ex.